Abbiamo chiesto una proroga della cassa integrazione fino all'11 giugno, l'obiettivo sarebbe quello appunto di riaccendere gli impianti a fine maggio, sappiamo che chiaramente ci vuole circa un po' di tempo, una ventina di giorni per poter riaccendere gli impianti, questo è il nostro desiderio, è il desiderio della cooperativa, dei soci, dei lavoratori, anche perché abbiamo un aumento dell'ordinata e quindi la necessità di accontentare i nostri clienti. In questo momento senza una diminuzione però del prezzo del metallo non ci sono le condizioni, quindi noi speriamo effettivamente che nelle prossime settimane cessi questo conflitto Russia-Ucraina e soprattutto appunto venga messo un tetto massimo, un prezzo uniforme, comune al metallo, insomma più in generale all'energia. Consiglio comune all'aperto all'interno dell'IVV di San Giovanni Valdarno per analizzare la situazione attuale dell'azienda e sostenere la storica realtà del territorio. Fondata nel 1952 come una cooperativa di lavoratori, l'azienda è una tra le principali e pochissime vetrerie rimaste che producono in Italia. Circa due mesi fa però per una scelta dei vertici legata all'esorbitante aumento dei costi energetici, l'azienda si è vista costretta a bloccare la produzione e a spegnere i forni. L'assise straordinaria è in programma per martedì 19 aprile alle 17. Abbiamo cercato di lavorare su un documento che fosse più condiviso possibile, abbiamo trovato la quadra, tutte le forze presenti nel Consiglio Comunale hanno scritto questo documento e soprattutto lo hanno votato nel Consiglio del 24 febbraio, trovando appunto sia il modo di esprimere le richieste verso la regione, verso il governo e poi anche chiedendo a me di convocare un'assemblea pubblica cittadina che fosse proprio nell'azienda per dimostrare la vicinanza di tutta la città, non tanto dei consiglieri ma di tutta la città a questa fabbrica che è uno dei simboli di San Giovanni, proprio perché da lì sono passati tanti lavoratori sangiovanesi, tante famiglie, creando un legame indissolubile proprio con il nostro territorio. Questo Consiglio inusuale per noi è anche ulteriore fonte di, per certi versi, di orgoglio e anche di responsabilità per il futuro. Vorremmo da questo punto di vista rafforzare ancora di più il nostro segnale di allarme e di necessità di intervento verso una realtà produttiva e in generale chiaramente verso un settore che a causa dell'aumento del prezzo dell'energia sta veramente rischiando di non ripartire.